Ciao a tutti! Oggi farò questo video in italiano perché ho comprato tantissimi vestiti e voglio mostrarveli. Iniziamo! La prima maglia è questa. È bellissima perché è corta e quindi si può indossare con i pantaloni a vita alta o i pantaloni normali, i pantaloni neri jeans e questa va bene un po' tutti i giorni. Molto molto bella. Mi piace un sacco. Questo maglioncino che è della Please è un maglioncino lungo in più c'è lo scaldacollo staccato se si vuole, dello stesso colore ed è... in queste giornate è fantastico! Che volendo si possono mettere sotto dei leggings neri o con gli stivali con gli stivali alti un altro maglioncino che ho preso è questo colore stupendo e secondo me se siete abbronzate o avete i capelli scuri specialmente sta molto bene questo colore morbidissimo anche questo. Non veste tantissimo quindi forse devo prendere una taglia in più se mi conoscete almeno un pochino saprete che amo amo queste magliette questa ha un bottone dietro al collo le maniche che si alternano maniche a tre quarti che si alternano al pizzo e quindi per uscire la sera o anche di giorno sotto a una giacca è stupenda io devo fare un regalo a un mio amico e ho preso questa maglia c'è un cervo come potete vedere e c'è scritta c'è il testo di Here Comes the Sun dei Beatles poi uno dei pezzi forti sotto c'è il top ovviamente e sopra c'è questa è una maglia lunghissima è lunga 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 fa da vestito metà a strisce in pelle e strisce di rete vedo e non vedo è bellissima è molto 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 bella potete avvenare con i jeans oppure se avete una canottiera lunga o tipo una sottoveste nera potete mettercela e fa da vestito bomberino bomberino mi sono innamorata di questo che di solito non è il mio stile diciamo ma è veramente veramente bello sono magari al posto della giacca di pelle in quelle giornate dove non sai cosa metterti non sai se metterti il piumino è troppo e stare senza giacca è poco al pelo dentro ovunque in tutta in tutta la giacca poi io non porto molto i tacchi non li porto più così spesso come facevo una volta oddio mi sento così vecchia comunque ho pensato proviamole ho detto devo provarle almeno togliermi la soddisfazione sono in sono in vera pelle dentro e made in italy hanno il plateau il tacco di preciso non so quanto sia comunque sono di vernice nera ci sono anche in altri colori ho pensato saranno comode adesso che le provo in negozio poi quando vado a casa mi distruggeranno i piedi lo so lo so però mi piacevano talmente tanto che le ho comprate lo stesso devo ricredirmi perché sono stranamente comode le ho usate ieri sera molto molto guarda ho fatto video in italiano perché per ora per il momento loro spediscono in Italia comunque vi lascio tutti i link la loro pagina la loro pagina di facebook instagram i numeri di telefono nel box info e qui in sovrimpressione inoltre se userete il codice jessica01 avrete il 10% di sconto quindi perché non approfittare ricordatevi di iscrivervi cliccate il bottoncino rosso qui sotto qui sotto ricordatevi di iscrivervi al mio canale e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video ciao 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 ciao